Ho l'onore di presentare il materiale che ha preparato la collega Barbara Arfè, siamo appunto colleghe di psicologia e dello sviluppo dell'educazione e anche una cara amica, perché non è qui, è in congedo, sta bene, ma è ancora in covalescenza e quindi cerco di svolgere io al meglio il suo ruolo e penso che potrò anche risparmiare del tempo per gli interventi. Allora, come vedete Barbara si è occupata e ha fatto un'analisi andando a vedere in materiale cosa fanno certe università, diciamo pure se definiamo le più prestigiose, in materia appunto di transizione dalla scuola secondaria superiore all'università. E sappiamo tutti che l'organizzazione insomma dello studio, la gestione, l'autoregolazione dello studio, nello studio alla scuola superiore è diversa da quella che viene richiesta all'università. Da una parte quando siamo alla scuola, gli studenti quando sono alla scuola hanno indubbiamente sempre un certo controllo e regolazione esterna da parte di insegnanti e genitori più o meno intensamente. Se consideriamo invece l'università, lo studente deve essere in grado di gestire tempi e modalità anche in una certa misura del proprio apprendimento. E anche proprio conversando con gli studenti dei primi anni si capisce bene come c'è chi si trova immediatamente meglio a doversi regolare e gestire, non avere ogni giorno la pressione quotidiana dell'interrogazione a sorpresa, delle due o tre verifiche alla settimana, quando magari non due nello stesso giorno. E c'è chi invece passa attraverso un periodo di difficoltà, dovendo cominciare a fare cose che prima non erano state richieste in termini di gestione del proprio processo e tempo di apprendimento. In sintesi, quale sarebbero le cose dal punto di vista delle attività cognitive che sono richieste quando si studia all'università? Vedete appunto che ha fatto del to-do list, è una lista di richieste che rientrano in qualsiasi dei nostri corsi, tutti chiediamo che i ragazzi siano capaci di estrarre velocemente le informazioni da un brano, di prendere nota, il famoso prendere appunti, che non è detto perché si segna qualcosa sulla carta, questi siano efficaci, ma come sono sempre venuta a lezione, ho preso gli appunti eppure non ho riportato un voto alto. Anche qua meriterebbe un discorso a parte, il prendere appunti, cosa ci dice la ricerca psicoeducativa in merito. Chiediamo tutti ai nostri studenti di cercare di sintetizzare informazioni da più fonti, immaginate una relazione, la tesina, l'elaborato finale, richiede massimamente la capacità di prendere da più fonti, comprenderle e organizzarle, farne una sintesi integrata e comprensiva, che non perda di vista l'obiettivo retorico del lavoro. Scrivere concisamente, fluentemente, accuratamente, torneremo fra un po', ho visto che c'è una slide sui 600 docenti che hanno posto il problema di quanto male scrivano. I giovani, gli studenti universitari, richiediamo tutti di saper pianificare, organizzare, strutturare le proprie idee, sia nel discorso orale che scritto, di controllare quello che si scrive, la capacità di revisione, che diamo per scontata, ma se uno non individua, non è in grado di individuare le scorrettezze, le inappropriatezze, ovviamente non è nemmeno in grado di correggerle, a meno che non veda scritto rosso sotto, non me l'ha segnato, sì ma il dizionario del computer non è paragonabile a quello che dovrebbe fare uno scrittore per quanto principiante. Chiediamo agli studenti di mantenere il focus attentivo per periodi prolungati e anche qui sappiamo che c'è una generale lamentela sulla capacità di prestare attenzione per periodi piuttosto, sembra, piuttosto limitati e così ovviamente di saper organizzare e pianificare tempi e attività di studio. Tutte queste belle capacità sono richieste per avere successo, riportare un buon rendimento, stare al passo con i tempi, non essere fuori corso e così via. Guardate un po', non è un errore di copia in colla, come vanno ad impattare, ad influenzare certe difficoltà, ma anche qui vi prego di considerarle in un continuum che comprende tutta l'ampia variabilità delle differenze che ci contraddistinguono. Vedete che è esattamente la stessa, esattamente la stessa lista di prima, non è un errore. Volutamente Barbara ha riproposto, e questo vedete che la fonte è una delle prestigiose università, che ci dice che si trovano, si possono individuare di più a tutti i livelli, quindi è evidente che quando c'è un sovraccarico di difficoltà il benessere va da tutt'altra parte. Allora, chi sono questi studenti? È la domanda così un po' provocatoria. Se guardiamo gli studenti con una storia di difficoltà, sottolineo il termine, solo difficoltà, non è specificato disabilità, sono studenti che non hanno ancora appreso solide abilità e strategie di studio. Oppure sono anche studenti che hanno elaborato un certo repertorio di abilità e di strategie, ma non riescono ad adattarle, forse le hanno apprese in maniera poco effessiva, non riescono ad adattarle alla complessità dei nuovi compiti. Perché? Perché c'è un carico cognitivo molto alto, per alcuni può essere troppo alto, c'è una teoria appunto del psicologico del carico cognitivo, non possiamo, cioè il sistema, l'architettura è, come dire, mentale, è limitata. Per cui il far fronte a tutte le nuove richieste può veramente sovraccaricare, non solo poi sul piano cognitivo. Questi sono dati che Barbara Arfè ha avuto dal servizio punto disabilità, come voi vedete, e sono recenti, 2006-2017. Ci sono 172 studenti categorizzati con difficoltà di apprendimento, così in termini generici, 188 sotto l'ultimo histogramma, la categoria altro, quindi per dire, insomma, di quanta variavità. Disabilità motorie, 122, disabilità multiple, disabilità uditiva e visiva, che sono quelle, diciamo, disabilità sensoriali, che in genere risultano, insomma, più frequenti. Ecco qui la lettera dei famosi, diventati famosi, i 600 docenti, noi la conosciamo tutti. A Pado mi pare che sia stata sottoscritta da docenti di giurisprudenza e di lettere, alcuni di lettere, non è girata a tutti. Io non l'ho assolutamente avuta, io ma molti altri. Quali sono i rischi per gli studenti, appunto, di cui ho cercato brevemente di tratteggiare alcune caratteristiche? Ovviamente sono a rischio di drop out, quindi di dover abbandonare nel corso di ritardi, di ricadute a lungo termine, poi anche a livello di collocazione professionale, o di ricadute più a breve anche termine, su cui ci siamo soffermati anche nella prima parte della giornata, ossia in termini di bassa autostima, e abbiamo visto che invece l'alta autostima, la buona autostima è un fattore di protezione, bassa autostima, scarsa percezione di efficacia, l'hanno nominata quasi tutti gli interventi stamattina, ansia e senso di impotenza. Da un punto di vista motivazionale, qui posso riferirmi alla ricerca che più padroneggio, il senso di impotenza correla negativamente, anche molto intuitivo, correla negativamente con qualsiasi prestazione cognitiva, scolastica, di qualsiasi tipo, in qualsiasi dominio andiamo. Bisognerebbe quindi evitare, prevenire, evitare che si arrivi a sviluppare un senso di impotenza, cioè io non posso cambiare la situazione, non è nelle mie mani e non posso più invertire l'andamento. Che cosa fare in concreto dalla ricognizione che ha fatto Barbara per favorire la transizione di questi studenti all'università, studenti con difficoltà? Ovviamente diamo per scontato che sia da garantire da subito, ma in maniera facilitata, non solo sulla carta, perché ovviamente diciamo che tutti devono avere accesso, garantire l'accesso a strutture, a corsi, a contenuti. Abbiamo nella relazione di Marina Santi e le altre colleghe che si è accennato all'avere a disposizione materiali caratterizzati dal disegno che va bene, insomma da caratteristiche che vanno bene per tutti, attrezzature e anche qua penso che abbiamo comunque da progredire notevolmente. E poi ecco, vediamo il supporto concreto. Pre-ingresso servizi di orientamento, ma questi veramente come dire anche su misura, personalizzati, supporto ha individuato Barbara alle prove di ingresso, appunto perché non dobbiamo pensare che gli studenti perché hanno l'etichetta, uso questo termine, di una qualche disabilità, non possono avere accesso a certi domini, a certi ambiti dello studio. Alle prove ed esame in generale, che sappiamo tutti quanta ansia, quanto malessere, quanti stati affettivi, insomma negativi, possano procurare in qualsiasi studente. Un supporto allo studio individuale e parla appunto di tutorato individuale e non solo di tutorato generico che più conosciamo. Tutorato individuale e soprattutto per quanto riguarda per esempio l'acquisizione e il perfezionamento di quelle abilità strumentali che possono fare la differenza. Ha sottolineato appunto abilità strumentali alte, come quelle basilari del prendere appunti, in un qualche modo non ho detto che necessariamente si devono prendere appunti con la penna in mano, e riuscire a fare sintesi da fonti diverse, perché prima o poi queste abilità, la seconda viene poi richiesta formalmente, un elaborato finale, io parlo per la mia scuola di psicologia, insomma gli studenti alla fine della triennale devono presentare un elaborato finale, credo che sia nella maggior parte dei casi. Quali altre azioni sono possibili? E qui Barbara ha fatto appunto un'analisi delle esperienze di eccellenza che ha trovato nella sua ricognizione. Le top ten universities, voi potete immaginare quali possono essere, tra cui appunto Cambridge come è visto prima, offrono varie forme di supporto oltre al tutorato individuale. Sottolineo che appunto non sono riservate esclusivamente ad una popolazione di studenti, gli studenti chiamiamoli così certificati, ma sono rivolti a tutti gli studenti. Ancora una volta possiamo ricavare anche il principio fondamentale che ci riferiamo all'estrema variabilità. E ci interessa appunto la diversità biologica, come è stato detto, ma anche, direi quasi, soprattutto dando per scontata la prima tra gli esseri umani, la variabilità psicologica. E hanno questi interventi, hanno l'obiettivo di promuovere, quelle che ha chiamato anche Teresa Sgaramella, le soft skills, soft e come dire, un po' hard, dopo se entriamo nello specifico dei singoli domini, ma soprattutto insistono sulle abilità trasversali che possono essere utilizzate, applicate, anche se declinate in maniera diversa, in tutti gli ambiti che costituiscono le aree di apprendimento specifico all'università. E quindi tutto questo può, almeno in teoria, favorire il transito della scuola superiore all'università. Barbara ha fatto poi un'analisi della letteratura più recente, che documenta, quindi evidence-based, con dati scientifici, che documentano quali sono stati degli interventi efficaci, che hanno agito, anche se quello poteva non essere l'obiettivo primario, che hanno documentato l'efficacia di certi interventi. Vedete, il primo è un lavoro che documenta che può essere efficace insegnare a come far uso di annotazioni online nel corso della lettura di testi e fare annotazioni, appunto, o può portare, saperle fare in un certo modo bene, che siano efficaci, effettivamente che aiutino a codificare le informazioni in un certo modo e poi a memorizzarle e facilitare quindi il recupero, perché insomma il recupero, la codifica è importante poi per il recupero, può aiutare enormemente gli studenti. Ha poi visto, il secondo lavoro menzionato lì, è un lavoro, diciamo così, casalino domestico, nel senso fatto all'università di Padova, insegnare a produrre, a fare sintesi efficaci da fonti molteplici, dicevo prima, per fare un elaborato triennale, il primo vero prodotto scritto che viene richiesto almeno da, mi pare, da queste parti, richiedo la sintesi di più fonti, non devono leggere solo, insomma, due o tre articoletti. Poi, un'altra attività che è risultata efficace, un intervento, il quick writing, in questo caso, cioè risposte di un solo paragrafo, quindi capacità di centrare subito, l'efficacia del BIR, in poche parole, è di centrare, rispondere in maniera pertinente, che aiuta l'elaborazione appunto dei contenuti appresi, migliorando anche l'espressione scritta, quel mason L non sono io. Poi, altre attività che sono risultate utili, quella di favorire l'identificazione e la correzione di errori nei testi, per impedire appunto, come dire, che la memoria si agganci a dati irrilevanti o meglio ancora fuorvianti, che implica il processo di validazione, che la persona sia in grado di validare anche i contenuti, insomma, come dire, mentre li legge, così come è risultato utile, qui abbiamo fatto un po' del lavoro noi, mostrare il video dei movimenti ocolari di un esperto per modellare, per dire, guarda come si può fare per leggere un testo e integrare tutte le immagini che ci sono in maniera che ti aiuta a capire meglio, mostrare il video di come ha letto una persona che ha capito bene, cioè dove ha guardato, che tipo di integrazioni ha fatto, la moderna tecnologia del registrato dei movimenti ocolari lascia un video che può essere utilizzato per dire guarda come ha letto una persona, guarda come ha letto un'altra e mettere a confronto e sollecitare quindi la riflessione metacognitiva che è molto importante per rendersi conto, una persona non può cambiare strategia se non si rende conto che non è funzionale e quindi rendersi conto vuol dire aiutare ad essere metacognitivamente esperti. Le esperienze di eccellenza vedete qui sempre all'Università di Cambridge che le chiama Trans Skills appunto che cosa organizza e lo trovate anche nei materiali workshop nell'ambito delle diverse discipline quindi più specifici ma poi trasversali risorse online mette a disposizione di tutti formazione del personale i facilitatori che venivano appunto nominati anche nelle relazioni di stamattina formazione del personale e ritorniamo anche alla richiesta che la la studentessa giustamente ha fatto e vedete poi in ultima che non è proprio la cosa di poco conto consulenze rivolte a dipartimenti o a college per lo sviluppo di nuove risorse e interventi credo che abbiamo sempre un po' tutti bisogno di questo e il prestigioso per non dire mitico MIT il Master of Technology che cosa che cosa fa evidentemente c'è bisogno anche tra gli studenti che hanno certamente dei prerequisiti di ingresso molto alti oltre che avere anche insomma il conto in banca messo bene il che cosa che cosa viene cosa fa insomma il MIT per i suoi studenti vedete seminari XL scritto creditizzati per studenti del primo anno su quelle centrali aspetti centrali del specifici ma anche di apprendimento in generale abilità di studio capite l'MIT fanno corsi su le abilità di studio di scrittura e di lettura e poi veramente danno supporto alla scrittura accademica per tutti gli studenti ma lì bisogna anche dire che non spettano la fine di tre anni per produrre un elaborato scritto hanno continuamente tra virgolette crediamoci i compiti per casa gli assignments hanno i report insomma le relazioni da fare e c'è vedete anche un servizio di consulenza su difficoltà di scrittura che comunque ci possono essere nonostante i corsi e gli workshop e di public speaking che è un tema che chiama in clausa cognitivo demotivo relazionale per studenti è le due quindi studenti insomma inglesi come seconda lingua che parlano l'inglese come seconda lingua sapete che ce ne sono tanti e speriamo che ce ne siano sempre sempre di più nonostante le condizioni di contesto e capite a cosa mi sto riferendo e quindi insomma sono sempre inclusivi vedete ancora una volta ribadisce Barbara Fe che sono non sono rivolti solo con studenti con disabilità lo staffo che segue questi interventi specifici workshop che prepara la materia online è neanche da sottolineare ovviamente personale formato e specializzato e altro aspetto importante queste attività anche se non tutte creditizzate per la verità vengono però riconosciute nell'ambito del percorso per esempio ai fini della laurea del conseguimento del titolo ecco vi ringrazio a nome di Barbara grazie grazie a tutti